Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, 100, 100, 100, 100, 100, più 100 fa 200. Il primo a raggiungere il 100 gol con la maglia della Juve è CR7, Cristiano Ronaldo. Il secondo a raggiungere il 100 gol con la maglia della Juve è Paolino Di Bala. La Juve sbanca Sassuolo nella partita più complicata, più difficile, contro una squadra in grandissima forma che aveva battuto il Milan. È pareggiato contro l'Atalanta, ma tutto è nato da un altro rigore parato, questa volta da Super Gigi Buffon, il portiere più forte della storia del calcio. Dispiace per gli altri, ma Gigi Buffon è il portiere più forte della storia del calcio che gioca a Sassuolo, una delle ultime partite con la maglia della Juve, e lascia il segno perché il Sassuolo parte benissimo a Razzo e para un rigore clamoroso a Berardi. Da lì la scintilla che cambia la nostra partita. Grande unità di intenti, la Juventus non poteva sbagliare questa sera. Lo so, le altre hanno vinto, però siamo ancora in corso e mancano due partite. C'è stata una dimostrazione di grande reazione di orgoglio e tutti hanno giocato per un unico obiettivo. La vittoria esterna contro il Sassuolo, una partita giocata benissimo a viso aperto, difendendo, sbagliando, contraattaccando, contropiede, di possesso e soprattutto di giocate di alta qualità e di grande tecnica. Tutti ci hanno messo del loro. Il gol di Rabiot dimostra che se i nostri centrocampisti iniziano a tirare dalla distanza, come i centrocampisti delle altre squadre possono andare a segno e cambiare le partite. Ma poi i giocatori di classe davanti hanno messo il loro segno indelebile su questa partita. Il grandissimo gol di Cristiano e il grandissimo gol di Paolino con il tocco sotto. Il pallonetto sull'uscita del portiere. 100 per Cristiano, 100 per Paolino, la Juve vince Sassuolo, rimaniamo in corsa. Adesso ce ne mancano due. Dobbiamo chiudere con grandissima dignità, con grande orgoglio, con cattiveria, perché soprattutto la prossima sabato all'Allianz Stadium è una partita che noi sentiamo in maniera particolare e dobbiamo chiudere questo campionato dando un segnale agli avversari per il finale, ma soprattutto per la prossima stagione, dove bisogna ripartire con grande grinta, grande determinazione e sapendo che si ricomincia tutti alla pari e che c'è un altro campionato su cui andiamo a competere. Ma prima le ultime due partite di questo è la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Con questa unità di intenti che abbiamo visto a Sassuolo ce la possiamo fare e si può nello scontro diretto in partita secca vincere un'altra competizione. E allora mi raccomando ragazzi, anche l'ambiente, tutti uniti, 100 più 100, 200. Fino alla fine, Forza Juve in gol.